A me tocca questa cosa qua, perché c'è qualcuno che è frugale, disoccupato, sta bene, vive. Io qua che comunque ho un percorso economico particolare, sto forse più ansioso di questa persona. Allora, se sei soddisfatto tutto ok. No, la gente comincia a discutere sul comprendere se è possibile, se è vero, se ha senso, se dovrebbe ambire di più o che cavolo ne so. Non è ok, perché uno così possiamo intuire che non paga le tasse o che contribuisce in minima parte. Eppure utilizza tutti i servizi pubblici e sono a disposizione dei cittadini che pago io con le mie stesse tasse in busta paga. Ora, politica. Dovremmo arrabbiarci contro chi è disoccupato e non paga tasse e usa servizi? Va all'ospedale, usa le strade e così via? Eh, tema molto spinoso e difficile. Spinoso e difficile. Ovvio che un sistema si regge perché quelli che non producono sono pochi. Se quelli che non producono sono troppi è un casino. Però è un sistema che si autoregola. Cioè, più aumentano quelli che non producono, più aumentano le tasse per i pochi che producono, più quei pochi che producono scappano o non dichiarano niente, più il sistema si autoregola verso il collasso. Cacca di addosso per piacere. Vabbè. È stato un po' blastato questo qui, questo che ha detto, eh, non va bene. Se non paghi le tasse devi morire. Gli chiedono lavorare, nero non risponde. Sei percettore del reddito di cittadinanza? No. Per scelta o perché non rientrai nei criteri? Non mi sono mai informato. Wow. Wow, ragazzi. Questo è figo, però, eh? Ah, se fosse vero. Partiamo dall'assunto che ipotizziamo fosse vero. Se fosse vero sarebbe molto zen la persona. Perché, dai, voglio vedere qualcuno che neanche si informa per capire se può prendere dei soldi senza faticare. E è nelle condizioni che forse ci rientra, dice, ma non credo di rientrarci. Qui puzza di avere un po' di qualche casa di proprietà o ereditata. Quando non riuscire più a fare lavoretti per via dell'età, come farei a mantenerti senza più entrate? La pensione bene o male serve a questa, a mantenerti quando non puoi più lavorare. Pensi di faccia o gruzzo, ho detto che hai da parte, come affronti questa evidenza? Provo a rispondere io. Beh, prima o poi comunque penso che se questa persona arriverà a 70 anni prenderà comunque una pensione di vecchiaia, no? C'è in Italia la pensione di vecchiaia che si dà anche a chi ha versato zero contributi? Però è una domanda che è ragionevole. Cioè se non c'è un piano a medio-lungo termine, vivere nel presente e dire ma sì, mi arrabbatto, faccio un lavoretto qua, l'avoretto là. Oggi, quando fra 15 anni hai problemi, che cavolo ne so, a muoverti o nessuno gli dà più nessun tipo di lavoro. C'è la minima, sì, c'è la minima, sì, che magari si abita un po' al sud, sicuramente, non penso paghi affitto al momento, 500 euro al mese, questo ci campa di lusso. 563 euro, olè, che vogliono pure aumentare. A che età? 70? 72? Ok, andiamo avanti. Esiste la minima, forse la portano a 780? Non lo so, sapete perché non mi... Però qui mi puoi esprimere opinioni politiche è sempre faticoso. Qual è il problema di avere una pensione minima alta? È che rende ancora più fastidioso versare contributi. Tutti quei poveracci che stanno, come si chiama, non l'Inps regolare, ma è la gestione separata, ma anche chi sta all'Inps, anche chi lavora, non so, solo 20 anni, perché poi dopo deve interrompere qualche motivo, il calcolo dei contributi che ha versato fa sì che la pensione venga meno della minima, quindi gli danno min, aperta parentesi, pensione minima, pensione maturata col sistema contributivo, e quindi se alzi la minima, questa funzione min spesso casca sulla minima, che ok, è più alta pazienza, però essenzialmente chi versa contributi li versa per nulla, perché arrivare a prendere più della minima devi comunque aver versato tanti contributi e quindi è un po' ingiusto, secondo me. Anyway, come riesci a campare senza entrate? L'ultima volta che ho lavorato in maniera sistemata è stato due anni fa, ora lavoro ricchio saltuariamente, quindi campo un po' col gruzzoletto accumulato negli anni e un po' con quello che guadagno ora. Vivo nella casa dei miei genitori, in campagna, fuori città, io al piano terra, loro al primo piano, chiaramente faccio una vita frugale. Ma sapete che sono invidioso? Sapete che sono invidioso? Poteva essere il tipo di vita, non il lavoro saltuario, così così così, poteva essere un mio futuro parallelo. Cioè nel senso che, vista così, vabbè, vivi con i genitori, ovvio che ci sono delle cose da modificare, però chi lo dice che non stia meglio di molti di noi? Molti di noi. Vediamo se c'è qualche cosa. Se praticamente l'incarnazione dell'essere umano su alcuna certa vita degli anni riversa le sue frustrazioni e il suo odio. Disoccupato, non diplomato, meridionale, single, uomo. Hai tutto il mio rispetto. Alla fine si riesce a vivere con i lavori che fai saltuariamente, non capisco dove sta il problema. Ok. Ok, la gente comincia a dire basta, è tutto in regola. Qui non sappiamo cos'è successo. Ok. Che tipologia di lavoretti saltuari? Adesso principalmente giardiniere. Ah, eppure il lavoro più felice del mondo, il giardiniere. Lavori più felici del mondo, con più alta senso di felicità percepita. Il 72% degli ingegneri. Due terzi degli psicologi, ma per favore. I commercialisti ci credo. Insegnanti non lo so se ci credo. Infermieri non lo so. So che i giardiniere sono felici, quindi ce la prendiamo, ce lo facciamo andare bene. Ok, giardiniere, bla bla bla. Questa è una reply. Stavi meglio psicologicamente? Quando lavoravi oppure ora? Pensi torneresti a lavorare se l'opzione si presentasse o pensi di no? Le persone ti giudicano? Grazie per l'ama. Allora, uno decisamente ora. Stavi meglio ora? Ok. Sta meglio ora che non lavora. Ora che non lavora, invece di ora che lavora. Dipende dalle condizioni, adesso comunque lavoro. Semplicemente non in maniera regolare. Alcuni pensano che facciano una vita miserabile. Io penso altrettanto di loro. Io questo voglio pagare. Voglio chiedergli una consulenza. Grazie per la risposta. Sono curioso. Sul secondo punto. Full time oppure no? Comunque a parte di chi sta commentando pesantemente. Sono convinto che tu possa fare un lavoro volendo. Tua nipote cosa pensa di questo? Quanti anni ha? Allora, il termine disoccupato è ambiguo. Anche perché potrebbe implicare il prendere la Naspi, cosa che io non percepisco. Quindi non prende neanche disoccupazione. Però non avrei saputo come sostituirlo. Inoltre, molto tempo ho capito che sei disoccupato da 47 anni. Invece di 47 anni è disoccupato. Ok. Però diciamo, mi pare che il posto sia scritto bene, almeno da questo punto di vista. Offerte di lavoro ne ricevo spesso, anche perché so fare davvero di tutto. Però sono condizioni davvero umilianti. Lavori pericolosi, precari, mal pagati. Se tanto mi dà tanto, riesco a avere meno a fine mese, ma a salvare la pelle e psiche. Ok. Quale ritieni sia il motivo della disoccupazione? Cosa ti fa rientrare nei due persone su dieci che non trovo loro in campagna? Ah, è in campagna? Io ho già lavorato da giovane e ho imparato a fare molti mestieri. Da quelli pesanti a quelli strani. Ho avuto due lavori a diventare sistemati. Scusa, sistemati, sistemati. Operario di produzione e rappresentante commerciale su strada. Ho avuto per maniera costituitiva per più di dieci anni. Aia. Voglio cercare qualche bug qua dentro, ma andiamo un po'. Dopo queste due esperienze sono entrato nel tunnel dei lavori precari, mal pagati, pericolosi. Sono tornato un po' a galla, per quanto sia, passano possa sembrare. Periodo Covid. Si, Covid non si legge bene perché c'è stato votato verde in mezzo. Ma dopodiché, punto a capo. Quindi lavoro quando decido io e faccio quello che dico io. Almeno guadagno in salute. Quindi, essenzialmente, è semi-fire. Grande. Vediamo, c'è un po' interessante. Metti su famiglia? Eh, figli? Che ce vuoi a fare il barbone di Dio senza figli? Ho avuto una compagna con cui ho anche avuto convistuto per qualche anno. La storia è finita in concomitanza dei primi problemi lavorativi. Comunque sia, se posso fare una vita nonostante tutto, tranquilla, è perché non ho responsabilità di campare nessun altro al di fuori di me. Eh, ma capito. Non fate figli a preso 76 voti qua, eh? Premesso che ti ammiro, molte delle più grandi menti illuminate della storia vissero così per scelta, barboni di Dio. Ma la cosa che personalmente comprendo a fatica è che non è mai avuta ambizioni. Non sono particolarmente illuminato. Comunque, grazie. Non sono mai stato particolarmente attaccato alle cose materiali. Comunque, ora come ora, il costo, in termini di salute fisica e mentale, a cui dovrei far fronte per fare i sfizi, superi a lungo la soddisfazione che ricaverei. Ok. Ok. Ok.